Si stanno celebrando in questo momento i funerali del Cavaliere Giacomo Rallo, morto così all'improvviso, una scomparsa che ha lasciato la città attonita e tutti quelli che lo conoscevano, gli amici, i parenti, i figli, la moglie. Giacomo Rallo era un ottimo imprenditore, ma una bella persona, sempre dolce, disponibile, affettuoso con tutti. Ha creato un impero, una grande azienda, un'azienda che va nel mondo con il suo vino e che porta alto il nome di Marsala. Nessuno potrà dimenticarlo e questa città dovrà ricordarlo per sempre, perché dovrà esserne grata al suo impegno, alla sua grandezza e a quello che adesso continueranno i figli a portare avanti.